La cosa divertente è che se si fossero lette anche le altre pagine di questo documento, si sarebbe scoperto che nella prima pagina c'è scritta una cosa molto chiara, cioè che quel documento erano una serie di contributi di persone esterne a Fratelli d'Italia che noi avevamo chiamato a raccolta e cui avevamo chiesto i loro contributi e c'è scritto le loro provocazioni. Appunti per un programma conservatore vuol dire contributi, ma poi il programma si deve ancora scrivere, è abbastanza facile, signori. Quindi la cosa più facile del mondo è questa. Non esisterà alcuna intelligenza artificiale che imponga ai giovani di fare della specie di lavori forzati, perché l'unica forma di intelligenza artificiale che ha imposto alla gente di essere schedata per poter lavorare in Italia era il Green Pass e noi l'abbiamo contestata ed era fatta da un governo di sinistra, o comunque dove c'erano quelli che oggi ci contestano questa roba qui. Per quello che ci riguarda, l'unico principio che vogliamo affermare è che ovviamente l'assistenzialismo italiano si deve distinguere e si deve concentrare su chi non può lavorare, perché chi può lavorare è bene che lavori. Ma quello che Fratelli d'Italia vuole fare è garantire ai giovani italiani un lavoro che sia all'altezza dei loro studi e che sia per loro dignitoso, sia nel tipo di lavoro, sia nel salario che percepiscono. È tutto.